Maxi sequestro alimentare in sei supermercati di una nota catena commerciale che si trova tra Roma al comprensorio di Tivoli e Latina ad essere sequestrati tonnellate di carne, pesce e latticini di vario tipo che venivano venduti, scaduti da anni e in cattivo stato di conservazione. I nasi e i polizotti sul posto hanno controllato la merce, hanno sequestrato sei tonnellate di prodotti alimentari potenzialmente pericolosi, esposti sui banconi e destinati alla vendita dei clienti. Le attività sono tutte riconducibili a un 63enne che risulta indagato per i reati di frodo in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione. Durante le perquisizioni numerose le irregolarità sulla merce, in alcuni casi priva di tracciabilità o di data di scadenza oppure superata anche da alcuni anni.